Sì, sono vero, mi sono detto, non è stato un po' di lavoro, non è stato un po' di lavoro, non è stato un po' di lavoro. L'accademia è un'istituzione destinata agli studi più raffinati e alle conoscenze di quattro milioni. Il tema può indicare una società scientifica dedicata alla ricerca del campo delle scienze mondiali, della filosofia e delle belle arti. Quindi, ladies e gentlemen, ecco a voi, Fabio e me, Guido Stein, Steve Mookie, T.J. Zang, io sono un spesso. Noi siamo l'accademia delle testenure. Se ti piace il G.L.A.S. Sotto il G.L.A.S. Se ti piace il G.L.A.S. Fai. Se ti piace il G.L.A.S. Se ti distrapezzo, se non ti piace il G.L.A.S. Mi pare un testo, con l'utente a te, non il pubblico ce l'ho, con l'utente a lei, quando parlo in chiamati fino, se mi piace in quel contesto, fa' cagare, fatto nel caldo, quello che che l'hanno fatto a fraccarare, e mi fa un po' gano a tocco, mi sono fatto un d'orle. Se ti invino a tocco, con FUNCA, ti chiamo FUNCA! Tu stai, gente della vita è la, giocare a giocare G.L.A.S. Lo stavo in di città, adesso confendo il marito, saluta la sua A, fagli il verso dito, ho topi blindi, sbagli con lo suono, prendi con filantieri, prendi con nessuno, mi schiavano l'inverno, ma sono troppi, non mi si calca, mi pare un po' di scattivi, mi pare un po' di scattivi, i miei cantati viti, tutti! C'è la salute, non mi uccano, e dalla te, vincere, non mi uccano, tutti noi, mi uccano, c'è la salute, non mi uccano, se non mi tocco la dù e quel che sta drarzt, stai troppo, non mi uccano, ma se che, non o si procede, non la giuda, dove dovrà ragione, ogni coppa come un po' di musica, auto tagliani su dieci, non le con l'onzo, 10 noti su dieci, Venezia! Su una di amica! Grazie a tutti